Hihi hi hi, Marci Burlone Buon ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo mio nuovo video Oggi ragazzi, siamo qui sulla Skywars Challenge Perché ragazzi, oggi dovevo uscire il vlog Però stiamo preparando bene il vlog con Marco Perché è un episodio veramente speciale che farà veramente tantissimo ridere Dovrebbe uscire comunque domani sempre alle 18 Oggi ragazzi, siamo qui con la Skywars Challenge Che mi avete consigliato veramente in tantissimi oggi F1 Challenge, ragazzi, dovremo giocare così Allora, io ho provato a fare una partita Sembra facile, ma è impossibile Cioè, io non so poi dove... Non mi trovo e basta, è una cosa boh Adesso andiamo subito nella prima partita Andiamo subito nella prima partita e vediamo un po' Allora, la nostra tecnica deve essere quella... Quella, quella... No, niente Praticamente quando apriamo, che apriamo le chest Dobbiamo mettere tutto direttamente come vogliamo Sapere già che la spada è sull'1, eccetera, eccetera, eccetera Faremo sempre massimo due partite per evitare di far venire i video troppo lunghi Perché? Perché sì E ovviamente i video così... Ok, qua non abbiamo niente Mettiamoci queste cose qui Qui Ci mettiamo il cibo nell'ultima Come... Ok, così mi sembra l'ideale Adesso facciamo così Scendiamo, speriamo di trovare una spada Perché se no... Sennò siamo nella merda Ok, siamo ufficialmente nella merda Poi abbiamo la speed Non possiamo fare... Adesso ci soshoppiamo qualcosa ovviamente ragazzi perché... Ah no, però abbiamo l'arco Ragazzi abbiamo l'arco Abbiamo l'arco Però con l'arco... Che cacchia faccio se non vedo dove sparo? È impossibile È impossibile È impossibile Sì Tutto è possibile per Marci Tutto è possibile Vieni qua piccolo amico Eh ma questo si barca Ragazzi, allora Ho finito le frecce? Raga Non ce la faccio Allora ragazzi Dobbiamo farci una spada Dobbiamo farci una spada Ce la facciamo di legno a questo punto Perché senza legno Non possiamo fare in altrissimo modo Perché solo con legno Adesso non voglio scioppare No? Essendo che non voglio scioppare Adesso possiamo mettiamoci questi qua E mettiamoci questi qua Magari è un pochino meglio Facciamo così E ci facciamo la nostra spadini Sì spadini Ah no È nel set Ok ragazzi bisogna Non riesco ad aprire Ok È un qualcosa di non lo so È tipo troppo brutto Fare così Ok Ok Abbiamo le nostre spade Perfetto Perfetto Ok Ok La spada la mettiamo qua Così ci mettiamo nel 9 Questo Questo Saliamo Ragazzi è difficilissimo Ve lo giuro che Dovete mandarmi un video voi Dove giocate in F1 Voglio vedere le reaction Perché non è facile Veramente non è facile Raga Non è facile Cosa vuoi fare? Non arrivo là con l'1 No Sì mi son salvato Porco diesel Sì 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 Oddio raga L'ho ucciso Oddio Oddio cosa ho fatto Oddio cosa ho fatto Non è vero Oddio non è vero Oddio non è vero Aspettate ragazzi Ma quello lì sta venendo da me Bisogna vedere un attimino Come sono messo con cibo Eh mi sono messo abbastanza male Nel 7 Nel 7 mangiamo Nel 7 mangiamo Ok Ok raga Ok raga Questo si è buttato Questo si è ufficialmente buttato Si è buttato Mi sta evitando Ma sei una cacca Perché mi eviti? Mi hai evitato raga Mi hai evitato Non mi ricordo più dove sono Ok nel 9 Ok raga È un qualcosa di troppo difficile Ok raga Ok Questo che mi ha evitato di cattiveria Adesso noi la andiamo a prendere Me ne sbatto Allora questa dovrebbe essere la spada No la spada nell'otto Cacchio nell'otto Perché ragazzi sapete che il tastirino si può cambiare Vi farò vedere quanto sono forte Vi farò vedere quanto sono forte raga Senza farci vedere Sì muori Muori Pezzo di cactus Sei morto Sei morto Olè 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 Adesso ragazzi Cerchiamo di prendere qualcosa di decente Ecco Magari una spada No non sono morto Non sono morto Ok Ho detto che non sono morto Ecco No perché qua sempre a criticare siete Sempre a criticare No dai ragazzi Facciamone un'altra Facciamone un'altra Al volo proprio E non lo so Io Questa tecnica qua non è brutta ragazzi Però dovrebbero capitarci delle cose un pochino migliori Perché Allora Adesso Organizziamoci Questa è una lappa abbastanza grandina Quindi essendo abbastanza grandina Io non lo so Io non lo so Comunque ragazzi volevo dirvi Stasera questa cosa Perché i video delle Skyward Challenge Non li editerò Perché Volevo provare a fare questo esperimento Con un video a settimana Non editato Nel senso Ma beh ovvio che Lo mettono in su Vegas Lo renderizzo e tutto Però volevo provare a vedere Se come i vecchi tempi I video venivano visti lo stesso Perché Boh perché A me piace comunque vedere un video Interno Nel senso così Non so come spiegarmi Però mi piace vedere i video così Quindi volevo vedere se anche a voi Oh Qua abbiamo una Vabbè adesso Ora siamo messi abbastanza bene Non accetto scusa adesso Eh Marci Non accetto scusa Non c'è niente Ok Allora Abbiamo la spada La mettiamo nell'1 In questo caso Ci mettiamo la nostra chest plate Facciamo così E adesso con l'arco L'arco è del 2 L'arco è qua Ok Butta casissimo Ok no Eh blocchi Nel 7 Perfetto Andiamo da questo qua Andiamo da questo qua Di cattiverio Tanto ragazzi Ci ammazza Ok Non so cosa sia successo Ma per me va bene Va bene Dai l'accetto Va bene Sì 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 Bravissimo Bravissimo Sono con te 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 Muori Muori Mamma mia Mamma mia Marci Mamma che forte Cosa ha fatto Marci Ragazzi 2 in 1 Troppo forte Marci Incredibile Incredibile Ragazzi Incredibile Incredibile Comunque mi sa che sono i suoni di Minecraft troppo alti Spero che non li abbiate sentiti troppo Perché sennò è un disastro Ragazzi Adesso Adesso Nel 7 Nel 7 Sempre ci mettiamo qua E andiamo Poi se moriamo ragazzi Fa niente Però la challenge Era almeno ammazzarne No 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 Uè Allure Non è che Fai la tutta Questa cosa qua Ok Siamo capiti Per me ci arrivo lì Quindi andiamo con l'1 E mi butto Olè Mamma mia ragazzi Che pro Che pro Che pro Questa è sopra Questo mi sa che se ne è già andato Come si è messo come cibo Mica non ha niente ragazzi Ma state scherzando Ma andiamoci sta menadoro Che è nel 4 Mamma mia ragazzi Tutto mi ricordo Tutto Tutto mi ricordo Volevo sapere quanti siano Ok O vado al centro Ragazzi Mi sa che vado al centro Vado al centro E' nel 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 set E' sempre Ho visto una freccia cadere Può essere No ok Spero di no Aspetta 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 Per evitare di sprecare Troppi blocchi Non c'è una Una crafting table Questo qui magari Ha lasciato qualche blocchetto Si Ma sei un genio Marci Ma sei un genio Ragazzi mi sono troppo genio Troppo 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 Ragazzi mi è scappato lo shift Vabbè ragazzi dai Per questo episodio è tutto Spero che questa challenge vi sia piaciuta Scrivete sempre sotto nei commenti con la hashtag MarchiChallenge Una nuova challenge da fare sugli Skywars In questo caso abbiamo fatto la F1 Challenge Che non è andata così male Ragazzi potrei riproporla Non magari nel prossimo episodio ma poi di più in là E cercare magari di fare un video un pochino più elaborato E cercare di vincere Comunque ragazzi io direi che per questo episodio è tutto Iscrivetevi al canale Bella Ciao a tutti i burloni